Giu dove abbiamo attivato la corrente, ve lo ricordate? Ecco qua, c'è un orma gigante e indovina cosa c'è qua sopra, Fra? Un interruttore con scritto System Not Initialized, dobbiamo trovare la palla. Il filo è collegato qua, il filo è collegato qua. Esatto, ci serve la palla, e siccome la palla arriverà da quell'orma, dobbiamo cercarla qua in giro. Ok, 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 al piano di sotto, ecco dove avevo visto l'altra orma, l'avevo vista là. Quindi, dobbiamo trovare un'altra palla, è matematica. Ok, ok, Dio che roba ragazzi. Per forza c'è qualcosa, sappiamo dove dobbiamo arrivare, dobbiamo trovare da dove partire. Allora, vediamo, io sono andato a cercare dove c'è la speedcola. Dobbiamo cercare da dove partire. Ok, ammo, ammo. Prendile. Prendile, prendile. Thank you. No, non è ancora presa, prendile. No, cretino, stavo sparando. Ok, aspetto. Il problema è che cercare la... Cosa c'è questa bocchetta? È il falegname. Che cazzo c'è il falegname? Cazzo provamelo. Dobbiamo cercare in tutta la mappa una palla e o qualcosa. Perché può essere che dobbiamo fare tipo un'altra sfida perché ci esca la palla, sai? Non è che dobbiamo fare un altro giro? Un altro giro di cosa? Eh, dove vuoi fare il giro? Sulle sedie o... Eh, l'ho già fatto sulle sedie. L'hai già fatto per provare? Sì, sì, però ho fatto pack a pancia. E la gondola? Non l'ho provata, hai detto che l'hai provata te, no? No, non l'ho provata alla fine. Eh, provala. Sono da tutt'altra parte. Vado a provarla. Vado a provare la gondola. Anzi, no, non la provo la gondola perché non c'è voglia. Lei è controproducente verso questa partita. Lo so, ci manca un cazzo di interruttore. Ma la palla non è che è entrata in un'orma ed è uscita nell'altra orma, tipo? Perché le palle non scompaiono. Le palle si trasportano. Non ho mai detto così tante volte palle in vita mia. Comunque, ho provato a prendere la gondola che magari nello stanzino dove si va a finire con la gondola è comparso qualcosa. Stavolta è round e non passiamolo. No, no, anche perché i colpi sennò diventano un problema. Speriamo sia comparso qualcosa qua sotto a sto punto. Oh, il DPSH pacapanciato è troppo forte. Cioè, 115 colpi. Devo pacapanciarlo, infatti. Ok, qua non c'è nulla. Salve, Debbia, sono sopra di te. Qua non c'è nulla. Non è l'ultima volta. Non mi vedi? Non mi vedi? No, perché sono un attimo un po' occupato ora. Sì, lo vedo. Ah, ecco ti. Cosa cazzo ci fai là? Non c'è niente qua sopra. Non c'è assolutamente niente. Non c'è niente. Ok, qua non c'è niente. Io sto guardando i muri. Cosa ci sfugge? Torno giù. Io continuo a guardarti sotto. C'è qualcosa che ci sfugge. C'è qualcosa che ci sfugge qua sopra. Tra l'altro i guardiani li hanno fatti un po' forti, raga. Non vanno giù, cazzo. Ma non vanno giù. 2, 5, 0, 3. Ecco, bianco, è in numerica. Qua è dove c'era la palla prima. Ok, ok. Secondo me la palla esce. Cioè, la palla secondo me è entrata in un orma ed è uscita in un'altra orma. Ma so che in quest'orma qui non c'è. Orma? Non la vedo neanche per terra. Non la vedo neanche sulle cose. Non ho più zombie io, raga. Non ho zombie. Dove neanche io non ho zombie. Ne ho uno io. Tienilo, tienilo. Allora. Non so se hai notato quanti soldi ho. Ho sentito Kaboom? Perché ho sentito Kaboom? Ho sentito il tiz di dire Kaboom. Boh, è morto il tipo però. Boh, va bene. Salve. Allora. Ok, io tengo lo zombie. Voi cercate un po'. Mi sto incazzando perché secondo me ci sta sfuggendo un'ovvietà. Ci sta sicuramente sfuggendo un'ovvietà. Bastardo, questa mappa è da stronzi. Perché sarà sicuramente una cagata da qualche parte. Sì, ma abbiamo cercato. Abbiamo fatto una valanca di cose. Sì, sì. No, siamo praticamente alla fine secondo me. Ci manca qualcosa. Cerca, cerca, cerca orme. Se qualcuno vede un orma su un muro, me lo dica. A parte quella dalla corrente. Cerchiamo orme. Ho trovato un 23 ma non vuol dire un cazzo. No, quello voleva dire un sacco di roba prima, Debe. Quei 2303 tipo, quel numero lì. Prima era l'ordine di attivare gli interruttori. Che io e Fra abbiamo attivato. Davvero? Sì. Sì, sì, sì. Allora, io sono scelto dove abbiamo attaccato la corrente. Non c'è niente. Infatti, lì è dove c'è l'orma. E se tu guardi là, c'è l'interruttore dove va a finire la palla lì. Cazzo, allora una palla deve ancora finire qua. Sì, una palla deve finire in quell'interruttore. Non so come la attiviamo la prossima palla. E' quello il problema. Come la attiviamo? Perché non è detto che ci sia già la palla. Magari dobbiamo fare qualcosa per far sì che quella si attivi. Ok, tu dall'altra parte sei già andato. Gli interruttori. Ah, ecco qua. System not initialized. Esatto, esatto. E lì che deve finire la palla. Ok, va attivato questo. Ci siamo. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo il nostro obiettivo. Sappiamo l'obiettivo ma non sappiamo come partire. Questo è il problema. Io non so più dove cazzo cercare. Ma c'è anche il fuoco. Sotto l'interruttore, quello che abbiamo attivato, è comparso tipo una fiammettina di fuoco. Non so se voglia dire qualcosa, se c'era già o se non c'era già. C'è un bug. No. Si chiama bug. No, siccome è una bug. Allora, poi c'è un'altra zampa dove c'è scritto Ice. C'è un'altra zampa? Sì. Altre due lo viste. Controlla lì che secondo me la palla è risbucata da un'altra zampa, se è risbucata. Serve la winter. La winter? Salve. Cosa lei si sta scaldando? La risposta è... Ho trovato un'altra vasca. Vuota o piena? Vuota. Secondo me c'entra qualcosa, io te lo dico. Vediamo nei cessi. Io voglio provare una cosa un po' strana. Non può aver messo una palla in giro a caso. No, fra giocare nudo è scomodo, fidati, non farlo. Cioè, hai già provato. Poi le palle si sciolgono sulle... A quanto pare ho indovinato come trovare la palla. Dove sei fra? Avete presente gli interruttori? Sì. Accoltellateli tre volte. Come accoltellateli tre volte? Quali interruttori? Perché ho comprato il bovio, ho accoltellato e sono verdi ora. Non sono più rossi. Oh merda, ok, ok. Non riesco, lo zombie. Ma serve il bowie? No, no, cioè, penso che... Io ho comprato il bowie e vanno verdi. Aspetta, 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 aspetta che provo subito. Provo subito può essere. Può essere. Perché erano rossi. Perché sono rossi, sì, è vero. Ho notato la luce rossa, ma... Sì, 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 sì. È vero, diventano verdi. Diventano verdi. È diventato verdi, è diventato verdi. Ho attivato quello sotto alla statua. Ho attivato quello sotto alla statua. Ok, allora, ho attivato quello della statua. Ok, ok, ho attivato quello dello spawn. Sì, ok, perfetto, il bowie. Allora, ho attivato quello dello spawn. Io ho attivato quello della statua. L'altro era... Dove era l'altro? E ha fatto kaboom. Questo suono kaboom, l'avete sentito di nuovo? No. L'ho sentito di nuovo io. Ho sentito di nuovo kaboom. Ok, ragazzi, un secondo. Dove erano, frat, ti ricordi? Ok, quello lì, quello lì vicino allo spawn, te lo ricordi, frat? Al jug, c'era uno al jug. Dove c'è la spingarda? Ce n'era uno al jug anche. Ok, quello al jug ci penso io. Ok, ho fatto un altro. No, no, ho fatto quello al jug io. Tu quale hai fatto, Debe? Io ho fatto quello giù alla corrente. Quello giù alla corrente? Ok, è diventato verde? Sì. Allora, l'ultimo, l'ultimo, ragazzi, è quello dove avete fatto il kit spingarda. Io mi sono perso. Vado, vado lì, vado lì, vado lì. Ok, so dov'è. Sto arrivando anch'io, mi sono un po' perso. Sto andando io, sto andando io, Debe, non ti preoccupare. Tu rimani là. No, frat, sono già qua. Ok, è verde. È già verde. È già verde? Allora, io vado a vedere là dove c'è il coso, il sistema quello da inizializzare, per vedere se è già fatto. Orko Khan, dov'è l'ultimo interruttore? Rifacciamo a mente lo canale. No, allora... Non puoi andare su? Allora, questa è verde. Quello è lo spawn, hai detto che l'hai fatto diventare verde tu. L'altro interruttore l'avevamo attivato. Ne abbiamo attivati quattro. Ma donna, che casino! Ne abbiamo attivati quattro. Ok, quello ha il jug, ok? Dove cazzo era fra? Dove cazzo era fra? Dove era Debe? Oh, Dio, un lapsus! Come faccio a ricordarmi tutto? Quella, la statua l'ho attivato io. Questo qua è già verde? Quello per andare sul tetto, non ce n'era uno? No, non mi sembra. Andiamo un po' a vedere! Non mi sembra. Non è che li abbiamo attivati tutti, no, ma sarebbe successo qualcosa. Cioè, avremmo capito che li avremmo attivati tutti. Cioè, ce l'avrebbe fatto capire sto gioco. Secondo me, bisogna farli in ordine. 2-5-0-3, i pannelli con i 2-5-0-3 in ordine. Ma bisogna capire quali cazzo erano. No, è impossibile, perché sennò comunque sarebbero tornati rossi in caso, secondo me.